scusami tanto, mi distratta questa e mi dici quell'altra fammi vedere un po' come c'è così sono movimenti facciamo andando le cose appena ho metto, facciamo vedere questo fammi vedere che cavolo è fammi vedere che non ho potuto vedere che è questa qua questo è questo questo è che è il tuo tipo di queste cose io vorrei, ecco qui un fedentone un fedentone la fedente che è divertente perché è anche abbastanza italiano e che ci devi fare di tanto gente coi 100 dollari ci compro un fucile e mi metto a fare il bandito con te ma vaffan no, perché si sente che non hai voluto dire tutte a me mi devono capitare capitare roba che a me le vecchie mi fanno impressione mica so il bambino Gesù numero e quelle sono le meglio donne perché le paghi e se levano dalle palle hai capito? e io non ho bisogno di te mettitelo bene in testa non ho bisogno di te e non so che ho inventato gli spaghetti ma certo che è un paragulo va bene? bene sì sì bene e buono ecco quello che sei un cane sei perché mettetelo bene in testa tu sarai il cane e io il padrone e devi camminare tre passi dietro di me ecco ecco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti